Ci metto sempre alla faccia quando si parla di Inter e oggi giustamente mi becco il mio bel ciotolone di merda e non ho problemi da questo punto di vista. Sono sempre stato affezionato a quello lì, anche quando è andato via in quel modo, dove se da una parte ci posso essere rimasto male, e anche di più, dall'altra potevo capire le motivazioni. Ok? Sono passato oltre al bacio della maglia del Chelsea, alle dichiarazioni nella conferenza di presentazione, poi si è sputtanato davanti al mondo intero per tornare da noi, è tornato strisciando, l'ho apprezzato tantissimo per questo, però non è che lo odiassi o ce l'avessi con lui. Alla fine sono professionista e fanno quello che meglio credono. Per il resto chiedo scusa a chi mi ha criticato, perché evidentemente avevo i paraocchi e non ho problemi a dirle queste cose. Dopo quello che hai fatto ieri sera, tu per me sei cancellato, definitivamente, e se dovessi tornare sarai il numero di maglia, caro mio. Pensa che è stronzo di aver difeso uno come te, un essere come te, perché poi non è solamente il fatto che tu stia pensando di andare da loro, è come lo hai fatto anche. L'Inter trova l'accordo con il Chelsea e tu, quando loro ti stanno chiamando per dirti sta cosa qua, non rispondi, non ti fai trovare, perché sei lì al telefono con quegli altri. Cioè, veramente. Ti sei dimostrato come un Mau Riccardi assoluto. Cioè, veramente. Io non ho parole. Io devo smetterla anche di affezionarmi ai giocatori, evidentemente. Come sempre viene prima il logo, e sia ben chiaro, però, da questo punto di vista, ho preso un granchio bello allucinante e non mi faccio problemi a metterci la faccia, a chiedere scusa a chi mi ha detto che stavo sbagliando. Sono uomo, ripeto. Ci metto la faccia e ci metto sempre tutto quello che serve. Da una parte vorrei dire due cose, per concludere. Occhio, caro mio, dove stai pensando di andare. Perché se veramente vuoi andare da loro, sappi che quelli, in primis, ti prendevano per il culo e lo fanno ancora adesso. Non ti possono vedere, non ti vogliono nemmeno dipinto, e ricordati quello che è successo in semifinale di Coppa Italia. E l'altra è che, da una parte, tutto questo ha un filo logico. D'altronde, uno che fa perdere una finale di Champions non può che andare alla Juventus. Detto questo, ragazzi, sempre Forza Inter, seguite la pagina per altri contenuti. Che tristezza.